Allora, sono passate un'ora e mezza? 1.33 esatto Cos'è successo in quest'ora e 33? Sono stanca Abbiamo arrivato i cani che ci volevano aggredire e volevano i nostri panini ma noi non glieli abbiamo dati Abbiamo arrivato le pecorelle e le caprette e abbiamo fatto un pezzo di storia insieme con una puzza di capra e di pecora in grecia Sono molto molto stanca e non sappiamo quanto manca il rifugio ancora Un chilometro e mezzo Sì, ma se il chilometro e mezzo è così potrebbero essere anche 50 metri è comunque faticoso Aiutate Ma no, che si diverte Fate una donazione per i bambini costretti a salire queste montagne Grazie 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 Grazie